Sostenibilità e innovazione. Le panchine intelligenti installate ai passeggi di Fano renderanno ancora più fruibile, dinamico, sicuro e al passo con i tempi questo polmone verde della città. Grazie ai nuovi arredi urbani, dal design accattivante e materiale resistente agli agenti atmosferici, sarà possibile connettersi alla rete tramite hotspot wifi e collegare smartphone, tablet e altri dispositivi alle porte USB per ricaricarne la batteria. Oltre alla connessione, le sedute illuminate LED con un orologio predefinito sono dotate anche di una rastrelliera per le bici elettriche e di una teca per defibrillatore automatico per far affronte ad eventuali emergenze. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Seri, l'onorevole Mirko Carloni e i referenti e responsabili territoriali del gruppo Enel che ne hanno illustrato le caratteristiche. Potrebbe essere anche una piacevole esperienza di lavoro in smart working, visto che l'ambito del parco, l'ambito della panchina con la presa al fianco della seduta, perché no collegarci un portatile e magari trascorrere una giornata di smart working in un ambito diverso dal contesto normale. In più, per rendere l'area ancora più sicura, sono state installate anche delle telecamere di contesto che sono praticamente collegate con la rete della Polizia Municipale e quindi offrono comunque sia alla cittadinanza altri due occhi per poter osservare e tenere in sicurezza l'ambiente. Soddisfatto della realizzazione di quest'isola tecnologica anche l'onorevole Carloni, che aveva richiesto l'intervento di Enel quando era assessore all'energia della Regione Marche. Un passo verso una socializzazione, ha detto il deputato, che falleva sulla condivisione e permette di vivere il concetto di smart city. Gli avevo chiesto se potevano fare un intervento a loro spese sulla città di Fano, che era la mia città ed è la mia città. In quella circostanza, visto anche il fatto che la proprietà del bene è l'Enel, c'è stato questo inizio di rapporto, hanno dato disponibilità con Enel X a fare queste panchine tecnologiche. Ne ho parlato con l'amministrazione comunale, ovviamente, che ha la gestione del parco e quindi da lì è nata questa idea che oggi stiamo inaugurando. Effettivamente sono un servizio in più, fra l'altro l'assessore Brunori ha già attivato, ha avviato un percorso di riqualificazione attraverso la partecipazione anche del Consiglio dei Bambini per la progettazione, un'ulteriore riqualificazione che vorremmo fare, partire nel fine 2023. E' un ringraziamento ad Enel perché ovviamente queste panchine sono state donate e quindi è anche questo un elemento di gratitudine ed è importante.